Una frase famosa di Flaiano, lei la conosce? Io ne conosco due di Flaiano che mi sono sempre, come dire, riecheggiate nella mente. La situazione è tragica ma non è seria, che secondo me è una frase, un aforisma che coglie a pieno il costume italiano, perché questa fu la grande abilità e capacità di Flaiano, quella di penetrare benissimo il costume italiano, fu la grande abilità di questo straordinario scrittore, giornalista, sceneggiatore. L'altra, quando gli fu chiesto perché non era diventato comunista, in una stagione in cui tutti gli intellettuali si schieravano sotto le bandiere del Partito Comunista, lui più o meno disse, adesso non ricordo bene la frase testuale, disse ma non sono così ricco da diventare comunista. Tra due punti in Italia, diceva Flaiano, la linea più dritta è un arabesco. L'abbiamo finita con gli arabeschi? Assolutamente sì e soprattutto penso che d'ora in poi possiamo archiviare la situazione è tragica ma non è seria. La situazione sarà sempre seria e la si affronterà con la dovuta serietà. Cosa farà il Ministro della Cultura? Cosa impone? Cosa trasformerà? Ma l'Isola della Cultura ha tanto da fare. La prima cosa secondo me è valorizzare il nostro immenso patrimonio culturale. Noi siamo la prima superpotenza culturale del pianeta, lo sappiamo bene, non è una novità questa mia affermazione, però dobbiamo lavorare affinché questo grande patrimonio possa aumentare la sua redditività per la nazione. Cioè noi dobbiamo trarre del PIL dalla nostra cultura. In un mondo globalizzato milioni di persone hanno fame di conoscere, di viaggiare, di fare esperienze in luoghi nuovi. Noi abbiamo tantissimo da offrire, anche questa regione ha molto da offrire su questo terreno, perché è una regione ricca di sedimenti storici e quindi noi dobbiamo capitalizzare tutto ciò, farlo diventare un valore della nostra economia, che sia in grado di dare occupazione e sia in grado anche di dare sviluppo. Essere giornalista aiuta a fare il Ministro della Cultura? I giornalisti hanno un'esperienza sul campo, se la sono formata questa esperienza e penso che sia una cosa utile.